Ciao ragazzi, vi presento il grafico di risposta in frequenza del JVC-HAS400 un grafico alquanto strano perché vediamo che un driver sinistro riproduca molto più bassi rispetto al driver destro che è un pelo più lineare entrambe però hanno questo difetto notevole di un 20 decibel mettiamo in media anche i 15 a oltre i 5000 Hz è una risposta in frequenza veramente anche questa, non delle più esaltanti migliora il livello inferiore del JVC-HASR185A migliora il suono che manca un pelo più pulito però veramente questa è proprio la dimostrazione di quello che già dicevo nella recensione come veramente gli alti quasi non ci siano, quello che viene riprodotto è anche abbastanza come se fosse esterno alla musica ci vuole ancora uno step per riuscire a ottenere delle JVC ben suonanti e queste non raggiungono neanche ancora il segno quindi vi saluto alla prossima recensione e ciao 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 Grazie.